Con Matti Lunnilsen partiamo dalla fine, era calcio rigore quel contatto? Senza dubbio sento un po' il colpo adesso anche sul piede però ha preso la palla, sono in dubbio però è successo, è successo, andiamo avanti. Un passo indietro questo pareggio in casa rispetto alle altre prestazioni? Senza dubbio sì, non era il nostro livello massimo oggi, non so perché però era mancato un po' di lucidità un po' di forza fisicamente e un po' di cattiveria nei momenti decisivi però anche se non era la nostra migliore prestazione oggi abbiamo creato abbastanza per vincere e dobbiamo stare più attenti a chiudere una partita come oggi perché non possiamo giocare come Barcellona, 42 partite a stasione però quando abbiamo la partita dentro le nostre mani dobbiamo vincere. C'eri anche due anni fa con Zeman, che differenze c'è tra quel gruppo e questo Pescara? Tante cose simili, soprattutto quello che mi piace è la stessa forza di migliorare nell'alimento e lo stesso voglia di imparare, lo stesso voglia di fare bene e mettere il suo massimo nell'alimento è quello che vale alla fine perché la stazione è lunga e dobbiamo andare avanti insieme non di solito, non come individuo reale e quello è importante e quello mi piace tantissimo. A chi dedichi il gol? Mi chiesto la stessa domanda, diciamo al mio fidanzato.